Un decalogo per la creatività di Federico Faggin Siamo enti coscienti e creativi La coscienza è ciò che ci permette di conoscere noi stessi e il mondo Siamo il tutto che può conoscere se stesso da infiniti punti di vista Ciascuno di noi è una parte tutto perché è una parte indivisibile dal tutto che condivide le proprietà di uno Uno è la totalità di ciò che esiste La nostra essenza è profondamente creativa perché portiamo ad esistenza ciò che conosciamo per la prima volta